In questo video vediamo l'intagliatore procedere con la rifinitura della foglia angolare della cornice codice 038 ordinabile sul nostro sito all'indirizzo www.corniciantiche.it. Si veda la facilità con cui la pasta di legno può essere intagliata. Il vantaggio nell'utilizzo di questo prodotto è di non far faticare le braccia dell'intagliatore in eccesso. Un altro eccezionale vantaggio è dato dall'assenza delle venature che di fatto contribuiscono non poco quando si intaglia il legno a rovinare l'intaglio e ad obbligare l'intagliatore a stuccare a volte in una fase successiva le parti di legno mancanti o rovinate. A lavoro finito, come vedrete a breve nelle ultime inquadrature, è difficile vedere delle differenze tra il legno e la pasta di legno. Anche stando molto vicini alla cornice si può essere tratti in inganno. Questo è il motivo per cui consigliamo sempre a priori ai nostri clienti di ordinare una cornice decorata con pasta di legno. Il risparmio finale può essere superiore anche al 40%. Vi invitiamo a seguire il link presente nella descrizione di questo video per vedere il prodotto finito. Arrivederci a tutti.